Siamo qui con Matteo Bertoli, nuovo acquisto dell'Italy Power Volley Milano. Innanzitutto ben arrivato Matteo. Grazie. Hai scelto di arrivare nella casa meneghina, l'Italy, quindi si partirà con il girone di andata dove tu potrai essere già protagonista. Qual è stata la motivazione di questa scelta? Beh, sempre mi piace molto mettermi in gioco. Mi è sembrata una squadra competitiva due settimane fa quando abbiamo giocato contro e c'è stato il contatto, l'occasione e ho deciso di sfruttare al volo. Quindi sei arrivato, sei già subito carico, domani partita contro Monza. Beh, certo. Derby, so che qua è molto sentito e spero di avere l'occasione per poter dare una mano. Sarà una domanda che ti avranno fatto sempre tutti, però è chiaro che anche il pubblico di Milano vuole saperlo. È un peso per te essere figlio d'arte, ovvero parliamo di Franco Manodipieta Bertoli, un giocatore che ha fatto la storia della pallavolo italiana? Beh, sicuramente è un po' pesante averlo come nome dietro, però è anche un aiuto sotto molti punti di vista. Lo è sempre stato, mi dà una mano in molte situazioni, quindi io alla fine ora lo considero molto più un aiuto che un peso. Oltre ad essere tuo padre ti diventa anche un grande consigliere allenatore. Esatto, esatto, che può essere molto importante. Oltretutto avete lo stesso ruolo, quindi diciamo che la scelta è stata data da quello? La tua scelta di ruolo? Ma, beh, sicuramente il desiderio un po' di mulare mio padre c'è stato quando ero piccolo andavo a vedere giocare da qui alla Mediolanum, alla Panemi e in altre situazioni. E quindi poi ovviamente mi è piaciuto il ruolo, ho voluto seguirlo, mi sono trovato bene e è andata così. Bene Matteo, quindi benvenuto e ovviamente fai un saluto a tutti i tifosi e invitali come sempre a vedere le nostre partite al centro pavesi. Grazie mille e ciao, spero di venervi presto e di potervi regalare qualche soddisfazione.